Buongiorno, ci apprestiamo alla partita con la Sidigas, domani ve lo ricordo ore 17 in Paladozza, parola a Coach Sacripanti. Domani è una partita molto importante, iniziamo la seconda fase del giorno di ritorno, dopo la partita di Trieste e di Milano. Credo che affrontiamo una squadra che è mutata in questo periodo, molto diversa da quella andata, dove era tutto talento e tiro nei primi 6-8 secondi per alzare il numero di tiri, con grande individualità di Norris Cole, con Nikos, adesso è una squadra più dura, più solida, con il recupero di molti giocatori importanti come Ndaye, con Harper e Seelins nelle ultime giornate e Patrick Young nel ruolo di 5. Quindi una squadra che gioca più duro, più solida, con meno possessi, con però tante esperienze in dercole e in fillò, insomma una partita molto dura. Noi pensiamo solamente a noi stessi, a fare la miglior gara possibile, a cercare di governare il ritmo della partita e soprattutto mettere una chiave difensiva importante. Credo che sia una gara che ci dà tanto, soprattutto se dovessimo vincerla, perché andremo su 2-0 con Avellino e rimarremo nelle prime 8 in maniera abbastanza solida, che è il nostro vero primo obiettivo. La squadra viene da un periodo, secondo me, di grande lavoro, di una partita discretamente soft, giocata senza crederci tanto come quella di Milano, mentre invece una buona partita giocata a Strasburgo, malgrado la sconfitta, e quindi adesso abbiamo bisogno di prendere tanta energia all'interno del nostro palazzo e soprattutto per due punti molto importanti. domande? Paolo, prego. Come hai detto tu, Fabrizio dell'andata è una squadra completamente diversa da quella che si chiama domani pomeriggio. La Virtus, invece, che margine di miglioramento ha avuto abbastanza di un gioco dell'andata, ricordando la partita, quella partita ha vinto la Virtus, perché se ne ha visto una delle Virtus migliori in questa stagione? No, beh, io non credo che sia stata una delle Virtus migliori, credo sia stata una buona Virtus, però abbiamo fatto anche altre partite di buonissimo livello. È chiaro che lì giocavamo sempre con Filippo Baldirossi nel 5, insieme a Kravic siamo riusciti a reggere il grandissimo talento, mettendo anche tanta zona e usando tantissimo tatticismo. Adesso è una Virtus che dopo un giorno d'andata, secondo me, ha qualche certezza in più, ha un discreto movimento di palla rispetto a prima, ha un po' più di fluidità in tutto quello che noi facciamo, è anche difensivamente migliorata. Ogni tanto non siamo ancora riusciti a togliere degli up and down all'interno della stessa gara che ci dà una solidità per 40 minuti e questo è quello che dobbiamo riuscire a fare da qui nelle prossime partite e proseguire il campionato. Però mi sembra, come hai detto tu, due partite molto diverse, con del tatticismo anche diverso e comunque, ripeto, se noi, se io tolgo una parte di partita fatta con Milano dove siamo stati un po' morbidi, poi siamo arrivati a meno 4 o 11 minuti dalla fine, io credo che anche la partita di Strasburgo, ma anche la partita col Besiktas, sia stata delle partite positive, malgrado il risultato finale. È chiaro che poi col Besiktas tu fai 0 su 17 prima di mettere il primo tiro da tre punti sembra una partita che hai giocato male, in verità tantissimi tiri sono stati molto aperti, capita anche nel basket di doverli, che si possono sbagliare, ecco, però a Strasburgo abbiamo disposto bene, questa è una partita molto dura, vediamo se riusciamo ad essere solidi per 40 minuti, perché giochiamo contro una squadra solida. Prego. Sì, hai ragione, infatti qualche disattenzione, in quel caso fu Pietro che si scordò completamente il tiratore, un altro caso invece un'altra volta magari un altro giocatore. Su questo dobbiamo essere molto più lucidi, più killer, diciamo, ne abbiamo parlato, stiamo cercando di essere un po' più feroci. Hai ragione, c'è grande buona volontà, però ogni tanto poi questa buona volontà viene vanificata da una disattenzione, da una stupidata, da un pensare che si è finito prima. invece, quello che dicevo, sul punto di vista di gioco e di organizzazione, adesso siamo, secondo me, discretamente migliorati. Dobbiamo adesso ripulire da queste cose con un po' più di ferocia, con un po' più di, anche di furbizia, ecco, che ogni tanto ci manca. Altre domande? Luca? No, no, io credo che la regola si guarda una per volta, anche perché è dall'inizio della stagione che c'è il periodo significativo, quindi credo che sia nella norma per noi. Si passa anche da un giudizio di vincere le ultime 6 su 7 molto positivo, poi perdi tre partite di fila, sembra che tutto vada male. Invece credo che ci siano sconfitte vittorie all'interno di quando tu giochi così tanto frequentemente e anche con squadre di altissimo livello, perché se ne va a vedere le ultime tre partite perse, che se ne dica, abbiamo giocato contro tre signore squadre molto forti. È chiaro che noi dobbiamo essere più bravi nell'avere sempre un atteggiamento. Ecco, a leggermente mi piacerebbe vedere sempre come quello che abbiamo avuto a Varese, con grande lucidità, con grande dedizione, con grande feroce in tutto quello che facevamo. Però credo che, insomma, vedendo una partita alla volta sicuramente andiamo nei nostri obiettivi. Adesso c'è Avellino che è importantissima, e poi vediamo di giocarci la partita in casa con i greci, che potrebbe darci per noi stessi il valore di quello che abbiamo fatto fino adesso. Cioè, tanto sacrificio per essere i primi in Europa, dove la Virtus voleva rientrare dalla porta principale. Ma a me no, di sicuro. I giocatori credo e spero no, di sicuro, a quello che sto cercando di trasferire in tutti i modi. Domani per noi è una partita di importanza molto alta. D'altronde poi, un po' tutte le partite che vengono da qui fino alla fine, e ne mancano 14, no, perdonami, ne mancano 13 per finire il campionato. Quindi credo che adesso veramente ogni due punti siano i punti più importanti per l'obiettivo che noi abbiamo, che è quello di giocarci play-off. I primi due li abbiamo centrati, che ci erano stati richiesti, che era come di entrare in Coppa Italia, ed era quello di passare il primo turno di Champions League. Adesso dobbiamo essere molto feroci nel terzo obiettivo stagionale. Poi all'interno dei tre obiettivi si costruiscono a seguire altri obiettivi, che è quello di passare il turno. Però ogni partita adesso veramente ha un'importanza capitale. Prego Paolo. Domani ancora vuole dire cuore? Linea di massima sì. Adesso voglio discutere se David può perlomeno venire in panchina per stare insieme ai compagni. Se non ci sono delle defezioni, oggi non ha fatto allenamento Kelvin Martin per un disturbo. Se non abbiamo problemi, credo di sì. Se invece all'ultimo avremo qualche problema, Brian è pronto a stare con noi. Luca? No. Scusa. Dovevo essere rimasto, se ci vuole dire qualcosa di più... Non è stato bene, adesso vediamo domani, è proprio fresca, fresca di... Non so dirti più di tanto, però io non penso ci siano problemi, almeno penso e spero che sia tutto una cosa molto gestibile. Il fatto di avere queste strisce positive e poi qualcosa negativa, dovrebbe dire che una squadra ancora un po' umorale che si porta presso un po' per gli suoi risultati o di riflessione un po' dal punto di vista o non c'è questo... magari non c'è una conseguenza di calendari, o c'è un avversario? Io ripeto, credo che quando tu fai un doppio impegno del genere, di un girone con squadre forti, con quella Champions League, di un campionato italiano così, è naturale che anche nel brevissimo periodo passi a un momento mega positivo, a un momento negativo, per quello che riguarda i risultati. Ecco, e di questo, ripeto, non mi spaventa assolutamente. Mi ha dato un po' più fastidio, penso di non averlo nascosto, il fatto che secondo me noi eravamo pronti per poter giocare viso a viso con Milano in maniera molto solida, invece ci siamo accontentati di andare via a fare la nostra partitina e magari il risultato dica un passivo molto pesante. Noi avevamo 11 minuti alla fine e eravamo sotto di 4, sbagliando 8 tiri liberi fino a quel momento e sbagliando tra 4 canestri elementari. Quindi non ci abbiamo chieduto fino in fondo. Questo è quello che più mi ha dato fastidio. Poi le altre partite, compresa quella del Besitas, quella di Strasburgo, difendo apertamente la squadra, perché secondo me abbiamo giocato, certo abbiamo avuto cattivissime percentuali nei primi 20 minuti con i turchi, però abbiamo giocato, abbiamo giocato bene, abbiamo rimontato, abbiamo avuto carattere, abbiamo avuto orgoglio, abbiamo avuto una buona circolazione di palla. Con Strasburgo, a mio avviso, abbiamo fatto una buona partita. Poi si perde, poi si può anche perdere, perché ogni tanto giochi bene e perdono, ogni tanto giochi magari un po' peggio e vinci, perché poi ci sono anche gli avversari, ci sono situazioni, ci sono momenti importanti, però ecco, più questo. Poi per il resto dobbiamo essere bravi noi a cercare una continuità di lavoro, proprio sotto l'aspetto mentale e anche lo stare in campo. Luca. Prego. La partita con Milano, proprio nella conferenza del nuovo partito, è stato molto chiaro sulla tua delusione per l'impatto caratteriale che ha avuto la squadra e avevi detto che è una cosa della quale parleremo. Se ci puoi dire, se ne avete parlato, quali spiegazioni ci possono essere per quell'approccio del primo tempo di Milano in una partita che, come avevi detto, alla vigilia era da vincere, non da giocare semplicemente, con una Milano che probabilmente mai con quella partita lì era più apprezzata, diciamo così. No, io non sono d'accordo sull'ultima tua affermazione, cioè nel senso che quando hai quelle squadre così complete come Milano, quando hai qualcuno fuori nel momento in cui qualcun altro dà tutto per tutto, quindi è stata la partita di Fontecchio, ma poteva esserlo di un altro. Quindi io non sono d'accordo su tanto a chi mancava loro e a chi non mancava, perché quando hai delle formazioni che sono tre squadre, una dentro l'altra, la gente, se è brava, aspetta solo il momento per poter giocare. Non ho nascosto la mia delusione, perché come avevi sentito la conferenza stampa il giorno prima, io volevo andare a Milano a vincere. Credo ne abbiamo parlato, spero di essere riuscito a trasferire tutta la mia rabbia e insoddisfazione, ma soprattutto e fargli capire che siamo forti sotto molti aspetti, non dobbiamo avere paura di questo, non ci dobbiamo accontentare di andare lì a fare la partitina, perché possiamo farlo, cioè avere la consapevolezza delle proprie forze, anche dei propri limiti, ma anche sapere che certe cose si possono fare. Il perché? Faccio un po' più fatica, sicuramente il forum è un... Tu vai lì, sono mille persone, questo grande palazzo, questa area un po' NBA che ti travolge, questa partenza che abbiamo fatto onestamente, se dopo i primi quattro minuti fossimo stati 12 a 6 per noi non c'è niente da dire, abbiamo sbriato un sottomano di Yannick, due tiri di Pietro aperti, un altro di NBA aperto, cioè però non abbiamo avuto quegli sting killer, abbiamo parlato, ma ne riparleremo ancora prima della Coppa Italia, quindi mi piace l'idea di pensare che non basta contentarsi, bisogna fare qualcosa in più, e questa è da parte di tutti. Mi apposto così? Grazie. Grazie, a domani. Grazie. Grazie. Grazie.